Inizia nel peggiore di modo il nuovo corso della Casertana. Come un anno fa erosso blu steccano all'esordio casalingo e stavolta il risultato è clamoroso. Di fronte c'era un'isola liria assemblata in fretta e furia solo venerdì e con appena due allenamenti nelle gambe. Eppure gli uomini di Nola sono stati capaci di sbagliare l'impossibile in avanti e in difesa. Scogna Miglio è out, al suo posto esposito in coppia con Dalterio, debutto dall'inizio per l'ultimo arrivato Platone. Varsi completamente guarito a fianco a Maiella e Palumbo in attacco. Dall'altra parte Cioffi manda in campo Iex, Giglio e Marco Tufano, circa 2000 sugli spalti. Si inizia gli ordini di Gutto della sezione di Palermo. Due minuti De Palumbo a provare con un tiro in corsa che si perde però alto sulla traversa. Neanche il tempo di studiare l'avversario e gli ospiti passano. Il giovane Jukic gira in rete di testa sugli sviluppi di un corner, pinto, gelato e gara in salita per il rosso-blu. Nonostante i pochi allenamenti, i laziali reggono bene il confronto non rischiando mai. I falchetti sembrano accusare il colpo, poi un lampo di Manco riaccende l'entusiasmo. Il numero 7 parte dalla sinistra e si accentra. Esplode un destro mortifero. Della pietra è battuto, 1-1. Il match si rianima e i falchetti iniziano a spingere. Manco ci prova con un tiro a giro che però è impreciso. Cioffi cambia inserendo Gelfusa per Oriente ma gli avversari si rendono sempre più pericolosi. Prima con un tiro a cross di Palumbo che della pietra sbanaccia in presa bassa, poi con Maiella che vede finire la sfera sul fondo da buona posizione. Stesso esito la girata del bomber al 34esimo, splendidamente imbeccato da Bacio Terracino. Nulla più fino al 48esimo quando l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. La casertana si ripresenta in campo con un'altra mentalità e schiaccia gli avversari nella propria area. Al settimo, chance d'oro per Palumbo che servito da Manco ha la palla del vantaggio ma della pietra se la cava. Troppo deboli invece 60 secondi dopo la conclusione di Bacio Terracino. Al tredicesimo si grida al gollo quando Manco sguscia sulla sinistra, mette al centro un difensore nel rinviare la sfera la scaramenta sul palo, poi della pietra si rifugia in corner. Ora i casertani sfruttano le corsie esterne e Varsia al diciassettesimo, pesca Maiella che si coordina al volo ma la palla è alta. Clamoroso invece nell'azione successiva il gol fallito da Palumbo, assist di Manco, l'attaccante è solo davanti all'estremo difensore, però angola troppo e l'azione sfuma. Bravo il portiere, tre giri di lancette dopo quando Manco dai 30 metri prova la sassata, bloccata a terra. Entra Biondi per Varsia, ma è sempre Palumbo a sfiorare la rete con un colpo di testa su corner di Manco. Di Nola si gioca il tutto per tutto, gettando nella mischia anche Gennaro Esposito, arretrando Manco a centro campo. La squadra si scopre, becca il 2-1 di Jukic che approfitta di una dormita difensiva, si invola e fa secco di Costanzo. Clamoroso invia medaglie d'oro. Con la forza della disperazione Maiella e Soci provano a reagire, l'attaccante salta ancora i riflessi della pietra, non bastano i quattro minuti di recupero, primi fischi per una casertana ancora incompleta e distante anni luce dalle aspettative dei tifosi.